Panorama d'Italia arriva a Viterbo. Arriva a Viterbo, un territorio dove l'enogastronomia, l'imprenditoria, la cultura offre delle straordinarie possibilità. Cominciamo con il Ministro della Cultura, per l'appunto, del turismo, Dario Franceschini, che ci viene a raccontare, a fare il punto della situazione sui tesori d'Italia e su come vanno sollecitati. Proseguiremo la nostra carrellata con 18 eventi che ci porteranno a toccare dal vero tutto il meglio visto da vicino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.